Se qualcuno ha scaricato e installato Call of Duty Black Ops 6 su Xbox App in questo caso possiamo andare semplicemente sui tre puntini vai direttamente su personalizza per configurare così il gioco ovviamente andiamo su file facciamo anche una scansione per vedere se ci sono degli aggiornamenti da fare per capire se possiamo risolvere questi problemi all'avvio e poi qui c'è scritto che qua possiamo fare la verifica e la riparazione del gioco quindi attendiamo così la riparazione aspettiamo che scarichi tutti i file necessari per Call of Duty una volta fatto quello che ti consiglio di fare è andare direttamente nelle applicazioni di Windows scendere fino a giù fino a trovare così Call of Duty quindi andiamo direttamente nella cartella di Call of Duty questa qua vai direttamente sui tre puntini e poi vai direttamente su opzioni avanzate per fare un ripristino e un reset dell'applicazione di solito questa impostazione qua funziona sempre facendo sempre la riparazione resettando oppure semplicemente reinstallare l'applicazione ora se l'errore persiste vai in alto a sinistra sul tuo profilo Xbox vai direttamente su support Game Service Repel Tool useremo questo tool per riparare l'Xbox quindi andremo a riparare l'Xbox Game Bar e altri provider collegati al programma così facendo risolviamo il problema all'avvio di Call of Duty se non dovesse funzionare noi possiamo andare direttamente sulla pagina che ti ho lasciato in descrizione che ti permetterà di reinstallare così un tool per Xbox eccolo qua andiamo direttamente su download la versione ed eccolo qua clicca direttamente su questo link risolverà così l'errore 0x0 tra parentesi quindi vai direttamente a scaricare questo comando una volta scaricato lo dobbiamo avviare ed eccolo qua sta facendo così dei nuovi aggiornamenti, aggiustamenti e anche ripristinando l'applicazione schiaccia il tasto Y e continua con l'operazione come puoi vedere qua sta risolvendo l'errore 0x0 una volta fatto premi invio per chiudere se l'errore persiste puoi semplicemente copiare così questo comando che ti ho lasciato in descrizione però dobbiamo avviarlo sul PowerShell esegui come amministratore Windows PowerShell copia così questo comando facciamo copia e lo inseriamo qua ora inserisci il secondo comando che ti porterà sui servizi di gioco di Xbox e devi installarlo ovviamente sulle applicazioni noi possiamo anche riparare Xbox quindi vai direttamente su installazione applicazioni app installate vai a cercare anche Xbox app e fai la stessa cosa che hai visto all'inizio riguardo alle opzioni avanzate facendo un reset, ripristine e poi reinstallando l'applicazione e anche reimpostandola quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao